Buon pomeriggio, bentrovati a questa prima edizione del TG6, il 18 di gennaio nella nostra regione non sarà mai una data come le altre dopo quello che è avvenuto lo scorso anno, dopo quello che è avvenuto all'hotel Rigopiano. E noi per iniziare questa lunga pagina dedicata al ricordo della tragedia dello scorso anno andiamo a Penne dove questo pomeriggio continueranno le celebrazioni per l'anniversario della tragedia dell'hotel spazzato via dalla valanga. Andiamo con Paolo Renzetti, lo vedete collegato, che ha ospite, è graditissimo e lo ringrazio per questo Piero Mazzocchetti, il tenore abruzzese che è conosciuto a livello nazionale e internazionale. Paolo buongiorno, iniziamo dunque con Mazzocchetti questa lunga pagina di ricordo della tragedia del Rigopiano. A te. Sì grazie, grazie Alfredo, buongiorno in diretta dall'esterno del Palasport di Penne dove si terranno oggi le varie cerimonie per questo pomeriggio del 18 gennaio ad un anno di distanza dalla tragedia dell'hotel Rigopiano. Hai ringraziato Piero Mazzocchetti, giustamente lo ringrazio anch'io perché tra l'altro lo abbiamo quasi sottratto ai colleghi delle altre televisioni. Grazie Piero ovviamente per aver accettato il nostro invito innanzitutto. No, grazie a voi che divulgate e fate notizia. Allora Piero oggi ci sarà questo lungo pomeriggio qui nel Palasport di Penne per ricordare questa tragedia, per non dimenticare queste 29 vittime. E' un tenore come te di caratura internazionale, è venuto davvero molto volentieri, tra l'altro pescarese e abruzzese, dunque non potevi mancare, sei stato invocato, sei stato chiamato a gran voce, non ti sei sottratto all'affetto di Pescara, dell'area vestina, di farindola, di Penne. Beh, anzitutto io sono molto legato alla Vestina in quanto mio padre è nato all'Areto Aprutino, quindi tutti i miei avi sono di questa zona tra Penne e Loreto. E' un giorno molto triste per l'Abruzzo, anche se tutti quanti avremmo auspicato che esattamente un anno fa fosse una giornata assolata come questa. Invece tutto era diverso, era uno scenario completamente apocalittico e insomma sono andate vie 29 anime che invece di far festa e invece di godere di un posto straordinario come l'Abruzzo sono rimaste vittime. Lo diceva tra l'altro, tra poco lo ascolteremo anche il vescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Valentinetti, nell'omelia della messa di questa mattina che c'è il dolore, ma bisogna avere la forza di ripartire, di ricominciare. E oggi cercherete anche di fare questo, ci sarà questo concerto che si terrà qui all'interno del Palasport e ci saranno anche delle tue canzoni che dedicherai proprio ai parenti delle vittime, ai familiari e a tutte le persone che oggi interverranno qui a Penne. Sì, la musica è un linguaggio universale eccellente, per quanto mi riguarda oggi interpreterò tre brani completamente diversi fra di loro partendo da Amara Terra Mia che è una vecchia poesia abruzzese musicata da Domenico Modugno fino a molto triste, molto amara appunto e l'Abruzzo ha subito nel 2017 davvero tante difficoltà tra Rigopiano, gli incendi d'estate, insomma abbiamo avuto tante difficoltà. Fino a concludere con nessun dorma, convincerò auspicando che all'alba di un nuovo giorno possano, possiamo e possano tutti vincere. Prima di lasciarti perché ovviamente devi andare, cosa ti senti di dire a queste persone oggi, ai parenti delle vittime, a queste persone che in questo anno hanno così sofferto, hanno così toccato purtroppo con mano cos'è un dolore molto grande? Noi non possiamo immaginare il dolore quando non lo si prova personalmente, possiamo solo dire con semplicità e umiltà che l'Abruzzo è vicino alle famiglie, sempre. Grazie, grazie a Piero Mazzocchetti che deve andare, ringraziamo davvero il tenore pescarese Piero Mazzocchetti che terrà il concerto questo pomeriggio tra poco qui all'interno del Palasport di Penne. Dicevo Alfredo pochi istanti fa che riferivo delle parole pronunciate nell'omelia dal vescovo di Pescara Penne Tommaso Valentinetti questa mattina nel corso della celebrazione per ricordare le 29 vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano. Allora se la regia è pronta possiamo andare ad ascoltare invece l'intervista che abbiamo realizzato al termine della funzione religiosa proprio con il vescovo di Pescara Penne. Mazzocchetti Valentinetti, lei ha detto nell'omelia oggi c'è un sole offuscato, in questa giornata dobbiamo far sì che nei cuori di tutti, di tutti voi, di tutti noi, torni a splendere questo sole perché tutti uniti, tutti insieme possiamo affrontare questo dolore? Sicuramente sì perché il dolore inevitabilmente ci schiaccia, schiaccia la parte più intima del nostro essere e soprattutto il dolore ha un grande strascico negativo, ci divide. Questo succede in tutte le grandi tragedie, se si studia un po' la storia delle catastrofi, si studia la storia delle morti collettive, inevitabilmente poi dopo il dolore e dopo la morte c'è la divisione. E questa è opera del demonio, non c'è niente da fare perché lui è il divisore, l'ho detto alla fine della messa, ma noi dobbiamo avere il coraggio proprio con la nostra unità di andare al di là di questo che ci farà superare anche il dolore della perdita dei nostri cari. Nella sua media ha anche detto che da cattolici non c'è una risposta a quello che è accaduto lo scorso anno ma la forza della fede, la forza della speranza. Sì, da credenti più che da cattolici perché la fede non serve per dire signore non mi far succedere questo, non mi far succedere quest'altro o perché non hai fatto questo o perché non hai fatto quest'altro, perché non hai fermato la valanga. No, la fede serve perché queste cose comunque accadono per farci attraversare le prove e le prove si devono attraversare con coraggio ma d'altra parte la prova più dura anche della nostra vita sarà il passaggio della morte. Del resto perché quando muoiono i nostri cari anche se anzianissimi noi piangiamo perché la morte è una durissima prova ma noi con la fede andiamo anche al di là della morte. E il 25 sarete con i parenti delle vittime a Roma a Santa Marta per incontrare Papa Francesco? Sì, è stata una richiesta che è venuta da qualche famiglia, io ho raccolto questa richiesta, me ne sono fatto portavoce, ho trovato la benevolenza del Santo Padre che ha accolto questa nostra richiesta e ci ha assegnato praticamente tutti i posti disponibili, che ne sono 50 dentro quella cappella per poter celebrare insieme con loro questa Santa Messa. Credo che possa essere anche questo un momento di consolazione, non sarà niente di eccezionale ma solo un momento di grande consolazione per loro, di grande fiducia nel guardare ancora più avanti. E queste le parole di Monsignor Valentinetti che ha ricordato come ci sarà appunto questa messa a Casa Santa Marta a Roma ufficiata dal Pontefice. Chi ha ricordato ovviamente questa giornata è anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che proprio lunedì era stato in Abruzzo per una cerimonia questa volta gioiosa per quanto riguarda i 30 anni di attività dei laboratori del Gran Sasso. Vediamo dal sito internet del Quirinale, eccolo qui, il messaggio di Mattarella ad un anno dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, ha scritto il Presidente della Repubblica, profonda ferita per la comunità coinvolta e per il paese intero, desidero rivolgere un commosso pensiero alle vittime e rinnovare la mia solidale vicinanza ai loro familiari e ai superstiti. Le angosciose immagini diffuse in quei giorni durante le operazioni di salvataggio, continua ancora Mattarella, scandite dal repentino susseguirsi con il passare del tempo di sentimenti ora di speranza, ora di sconforto, sono presenti nel cuore e nella memoria di tutti, così come la straordinaria generosità dei soccorritori impegnati in attività di particolare complessità e in condizioni di estremo pericolo, a testimonianza dell'autentica solidarietà corale che il popolo italiano riesce a offrire nelle prove più drammatiche. Dunque questo il messaggio di Mattarella, messaggio anche da parte del Presidente della Camera Boldrini, è passato un anno, scrive la Boldrini, ma la tragedia dell'hotel Rigopiano è ancora viva nella memoria di tutti, un paese intero seguì con trepidazione e speranza dolore le operazioni di soccorso, gioì per le persone messe in salvo, pianse per coloro che non ce l'hanno fatta. Noi torniamo adesso da Paolo Renzetti e ripartiamo proprio da queste ultime parole scritte da Laura Boldrini, dal Presidente della Camera, il dolore per le persone che non ce l'hanno fatta, le 29 vittime di questa immane tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola che ha fatto ai noi il giro del mondo. Paolo, ripartiamo da questa mattina, dalla cerimonia che c'è stata proprio davanti a quel che resta, praticamente nulla dell'hotel Rigopiano. Ripartiamo proprio da lì, Paolo, ti chiederei di descrivere che cosa è accaduto e anche quali sono state le tue sensazioni in quella cerimonia così ristretta. Sì, alle 9.48 minuti di questa mattina c'è stato il primo atto di questa giornata, la prima cerimonia, forse quella più sentita perché c'è stata una deposizione di una corona e di mazzi di fiori dinanzi all'ingresso di quello che era una volta l'albergo, il resort di Rigopiano di Farindola, il momento più toccante che è iniziato con il suono del silenzio da parte di una persona dell'orchestra che poi suonerà questo pomeriggio qui a Penne. C'è stato intonato il silenzio con la tromba e c'è stata proprio la deposizione di alcuni mazzi di fiori e di questa corona proprio sul luogo simbolo, quello che è il luogo simbolo di questa tragedia dove ci sono le foto di tutte le 29 vittime della valanga di Rigopiano e proprio subito dopo aver deposto una corona e dei mazzi di fiori ci sono state le parole molto semplici proprio del vescovo di Pescara, Tommaso Valentinetti che abbiamo ascoltato poco fa, ha parlato proprio di questa giornata, di questo paradosso, di questa giornata così assolata ma di questo sole offuscato a distanza di un anno dal dolore per questa tragedia e per la perdita di 29 vite umane. C'erano tutte le autorità, le massime autorità civili e militari e c'era anche, abbiamo visto tra gli altri, il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri il colonnello Marco Riscarlati e c'erano ovviamente tutti i parenti delle vittime anche i soccorritori, tutti coloro che lo scorso anno parteciparono a quella lotta contro il tempo per cercare di salvare il maggior numero di vite umane rischiando a loro volta i soccorritori proprio la vita e c'è stato anche fortunatamente chi è riuscito a salvarsi ci sono stati dei superstiti tra questi Giampiero Parete, il cuoco di Pescara che si trovava nel momento in cui si è scatenato l'inferno in cui c'è stata la valanga che ha sepolto e distrutto l'hotel Rigopiano si trovava all'esterno della struttura perché era andato a prendere degli oggetti in macchina è stato lui a salvarsi, il primo a lanciare l'allarme noi abbiamo ascoltato proprio Giampiero Parete al termine della messa di questa mattina nella chiesa di Farindola possiamo andare ad ascoltarlo oggi a distanza di un anno della tragedia di Rigopiano che cosa ricorda, che cosa ha portato dentro di sé in questi 12 mesi? oggi sono qui perché voglio stare insieme ai parenti delle vittime e voglio ricordare insieme a loro tutto quel dolore che abbiamo passato in quei giorni Giampiero Parete si sente un miracolato Sì, non sappiamo che cosa abbiamo fatto noi per meritare questa cosa e che dovrei fare io in futuro per sdebitarmi di tutto questo bene che mi è venuto anche addosso adesso Il pensiero per i parenti delle vittime, per quelle persone che invece non ce l'hanno fatta, qual è? Io ce l'ho sempre nel mio cuore perché ho vissuto il loro ultimo giorno di 29 angeli è difficile da dimenticare, sto sempre al pensiero con loro Cosa ricordi in quei momenti quando tu eri fuori con Salsetta e in un modo o nell'altro siete stati voi comunque a lanciare l'allarme a far capire quello che stava accadendo, anzi quello che era accaduto qualche attimo prima? Guarda, in quegli attimi così coincidati ero così sotto shock che ricordo e non ricordo quella sera però ricordo che abbiamo fatto tantissime telefonate per far sì che ci venissero a salvare Come è cambiata la tua vita dopo quella tragedia? Però c'è la famiglia che comunque ti dà la forza per andare avanti probabilmente L'unica cosa che noi adesso associamo la neve a una cosa di pericolo è pure i miei figli con gli alberghi e quelle altre cose E' chiaramente una tragedia che sarà difficile cancellare dalla memoria di chi l'ha vissuta in prima persona ma anche di chi l'ha vissuta da spettatore oppure come noi l'ha dovuta purtroppo raccontare Paolo torno da te perché subito dopo la cerimonia che c'è stata davanti ai resti dell'albergo di Rigopiano c'è stata poi questa fiaccolata un momento diciamo di ritrovo dei familiari e di tutti quanti coloro che si sono sempre stretti attorno alle persone, ai familiari delle vittime scomparse Questa fiaccolata, Paolo ce la vuoi raccontare? Sì Alfredo, 29 fiaccole accese, 29 fiaccole per ricordare chi non ce l'ha fatta proprio un anno fa C'è stata questa fiaccolata da parte dei familiari delle 29 vittime di tanti cittadini di Farindola, di tanti abruzzesi che sono saliti questa mattina fino a Rigopiano per ricordare questa tragedia questa fiaccolata che si è snodata per due chilometri dall'abbivio che porta la strada per Rigopiano vado di sole verso la piazza principale del paese di Farindola la piazza della chiesa di San Nicola Vescovo dove poi è stata ufficiata la cerimonia religiosa dal Vescovo di Pescara Tommaso Valentinetti 29 fiaccole accese come segno di ricordo ma anche come speranza per un futuro di ricostruzione, di ripresa e c'è stato anche uno stricione che è stato esposto dai familiari delle vittime per non dimenticare, per continuare a ricordare quello che è accaduto proprio esattamente un anno fa in quel maledetto pomeriggio del 18 gennaio del 2017 ne parlava anche il Vescovo di Pescara bisogna comunque ripartire, bisogna cercare di guardare avanti senza ovviamente dimenticare quello che è accaduto nel ricordo di chi non c'è più e questo ha fatto Riccardo Di Carlo, ventenne, giovane di Loreto Aprutino che nella tragedia di Rigopiano ha perso entrambi i genitori è rimasto lui con il fratello coetaneo e con un fratellino più piccolo, minorenne e proprio Riccardo ha voluto, in nome del papà e della mamma che non ci sono più ha voluto riaprire nelle settimane scorse la pizzeria di Loreto Aprutino che era stata chiusa dopo la tragedia di Rigopiano proprio perché erano morti i suoi genitori che portavano avanti da tantissimi anni questa attività e proprio nelle parole di Riccardo Di Carlo il ricordo di quella tragedia ma anche la voglia e la volontà di ricominciare e di guardare avanti Riccardo Di Carlo, oggi è il giorno del ricordo, oggi è il giorno del dolore però tu sei anche giovane, è il giorno della speranza voi tra l'altro pochi giorni fa avete riaperto la pizzeria di famiglia Loreto Aprutino siete ripartiti, c'è voglia di guardare avanti ma ovviamente non si può dimenticare quello che è successo esattamente un anno fa proprio qui alle nostre spalle Sì, c'è tanta voglia di andare avanti, di ripartire di riprendere quello che i nostri genitori avevano ricostruito tant'è che domani ripartiremo pure con la pizzeria di penne alle 4 e mezza ci sarà l'apertura dopodiché faremo un video commemorativo che celebra quella che è stata la vita dei nostri genitori fino ad arrivare a quel 18 gennaio e c'è tanta attesa, c'è tanta voglia di andare avanti e di ripartire da dove loro avevano lasciato Chi vi ha dato soprattutto la forza di affrontare questo dolore di sopportare questo dolore e comunque pian piano di ripartire? Ma sicuramente nostro fratellino più piccolo noi ci siamo sentiti da subito la responsabilità da fratelli più grandi che siamo quindi meno male che c'è stato lui che ci ha invogliato, ci ha spinto a ripartire ad andare avanti e a non fermarci mai Importante non dimenticare e anche l'affetto di tante persone che sono presenti anche qui oggi è importante Sì, è molto importante non dimenticare quello che è successo un anno fa deve rimanere impresso nella mente di tutti Riprendiamo la linea qui da Pene dall'esterno del palazzetto dello sport siamo in compagnia, lo ringrazio con il maresciallo Lorenzo Gagliardi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza tra i primi ad arrivare fra le macerie dell'hotel Rigopiano ci eravamo visti e sentiti proprio il giorno dopo questa tragedia a distanza di un anno quali sono le sue sensazioni, Marsciallo? Comunque tornare qui mi sembrava doveroso e stamattina quando sono salito su si sono riaccesi in me quei ricordi di quelle giornate quindi quella attraversata notturna per arrivare giù su a Rigopiano ho ripercorso ricordando mentre salivo quei momenti un po' tristi e delicati ma allo stesso tempo anche felici per aver contribuito a salvare quelle 11 persone E ci raccontava proprio un anno fa della gioia comunque di aver soprattutto salvato quei bambini che erano sotto le macerie dell'hotel Rigopiano? Sicuramente quando si salva un bambino è come salvare un figlio quindi averli visti tutti vivi i quattro che erano lì sotto le macerie è stato una gioia indescrivibile Cosa le è rimasto di quei giorni a distanza di un anno? Comunque è rimasto il ricordo totale di tutto quello che è accaduto ma la speranza che non succeda mai più una tragedia del genere Grazie, grazie al male Sciarlo della Guardia di Finanza Lorenzo Cagliardi possiamo, Alfredo, se tu sei d'accordo restituire la linea allo studio qui da Penne dopo aver ringraziato per la collaborazione Gaetano Tereo e Stefano Recanati appuntamento alle 17 per un'altra edizione del nostro telegiornale sempre qui in diretta da Penne linea allo studio Grazie, grazie a Paolo Renzetti a tutta la struttura di Vestina News per questo lungo collegamento da Penne in ricordo di quello che è accaduto lo scorso anno collegamento doveroso naturalmente come ha già anticipato Paolo continueremo a seguire il pomeriggio la giornata tra Farindola e Penne con collegamenti in diretta alle 17 e poi nel Tg delle 19 Voltiamo pagina ora passiamo agli altri servizi del nostro giornale quasi 7 milioni di euro donati liberamente dai lavoratori e dalle aziende saranno investiti per rilanciare le zone terremotate del centro Italia l'iniziativa è stata portata avanti dalle segreterie nazionali di CGL e Cisle Will in collaborazione con Confindustria e a beneficiarle sarà soprattutto per quanto riguarda la nostra regione il cratere Terramano sentiamo Tania Bonnici Castelli i lavoratori e le aziende italiane hanno donato quasi 7 milioni di euro per sostenere i territori colpiti dai terremoti del centro Italia l'iniziativa è stata portata avanti dalle segreterie nazionali di CGL e Cisle Will unitamente a Confindustria che hanno voluto così dimostrare il loro impegno concreto e la loro vicinanza alle popolazioni colpite in Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche la solidarietà verso le vittime e i territori coinvolti si è tradotta nelle donazioni che i lavoratori e le aziende di tutta Italia hanno effettuato liberamente e che hanno permesso di costituire un fondo di esattamente 6 milioni 700 mila euro che sarà utilizzato tramite un avviso di finanziamento le proposte ricevute saranno raccolte e valutate nella massima trasparenza tutto ciò con l'obiettivo di sostenere e rilanciare iniziative pubbliche, associative e imprenditoriali utili alla ripresa dell'economia e al miglioramento dei servizi alle popolazioni colpite dai terremoti in Abruzzo le zone che beneficeranno maggiormente di questo avviso di finanziamento saranno quelle del cratere Terramano dove si rende necessario un sostegno concreto al tessuto operativo delle piccole e medie imprese e dei loro lavoratori soldi dunque che saranno investiti in territori che altrimenti sarebbero destinati alla deriva e all'abbandono migliorando i servizi alle persone svantaggiate e alla popolazione residente incrementando le opportunità per le imprese già attive e la creazione di nuovi posti di lavoro e per saperne di più mercoledì 24 gennaio alle ore 10 nella sede della provincia di Terramo si terrà un infoday di approfondimento sui contenuti del bando alla presenza del Comitato Sisma Centro Italia e adesso una notizia di cronaca 146 tra autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole 89 targhe di autovetture 7 carte di circolazione 4 certificati di proprietà e quanto scoperto dalla Guardia di Finanza Nicchieti nei pressi dei comuni di Canosa, Sannite ed Orsogna in attività illecite del settore della rottamazione di autovetture i finanzieri all'esito dei controlli hanno rilevato redditi non dichiarati per oltre 1 milione e 100 mila euro e emissioni di fatture relative ad operazioni inesistenti è stato inoltre avviato un controllo diretto al contrasto dell'impiego di mano d'opera irregolare ed è stato dunque scoperto un lavoratore in nero con manzioni di lamierista carrozziere sono scattate le denunce per ricettazione emissioni di fatture per operazioni inesistenti illecita attività di smaltimento dei rifiuti i finanzieri hanno irrorato sanzioni amministrative per 1 milione e 175 mila euro relative a 235 contestazioni per violazioni della normativa ambientale recuperato bolli auto non corrisposti a Regione Abruzzo con relative sanzioni per 870 mila euro proseguiamo con il nostro giornale mettere al centro della discussione pubblica c'è il lavoro e la richiesta dei sindacati CGL, Cisle e Will che hanno scelto Lanciano come luogo per una manifestazione unitaria in programma il 3 febbraio vediamo più lavoro e più sviluppo per l'Abruzzo scendono in piazza in maniera unitaria CGL, Cisle e Will con una manifestazione organizzata a Lanciano per il prossimo 3 febbraio tanti e importanti i temi al centro della manifestazione in un Abruzzo che cresce meno di altre regioni ed è alle prese con ben 109 vertenze tuttora aperte in ogni angolo della Regione tra cui particolarmente delicate quelle della Honeywell e della Intex con migliaia di posti a rischio Lanciano quasi un luogo simbolo insomma c'è la Val di Sangro a pochi passi che con la Sevele è ancora il traino per il settore automotive del centro Italia Dobbiamo però dire che abbiamo i dati per esempio sugli ammortizzatori sociali che ci dicono che nonostante l'intero Abruzzo ha visto una diminuzione di ammortizzatori sociali la provincia di Chiedi continua a essere l'unica provincia che cresce sulla cassa integrazione e quindi questo ci dice che ci sono segnali importanti l'ultimo è quello della Honeywell di avere un'attenzione particolare per quelle che sono queste aree Noi abbiamo una situazione nella quale sicuramente c'è stato un recupero nell'occupazione ma è un recupero instabile precario Noi abbiamo necessità di dare stabilità al lavoro e all'occupazione dei nostri cittadini e abbiamo necessità anche di sbloccare situazioni di grande sofferenza come quelle delle piccole e medie aziende artigiane delle piccolissime aziende che sono il cuore pulsante dell'Abruzzo Che 2018 vi aspettate? Noi speriamo positivo saremo di pungolo alla Giunta per una politica industriale che punti alla concretezza Dici Lanciano e pensi subito alla Honeywell che è l'ultima delle vertenze forse anche la più grande della Val di Sangro Naturalmente manifestazione a Lanciano è una manifestazione importante promossa unitariamente da CGL e Cisle Will perché le crisi industriali sono molte aperte nella regione alcune sono drammaticamente precipitate come la Honeywell gli ammortizzatori sociali nella loro nuova configurazione non danno più una copertura adeguata alle lavoratrici e ai lavoratori c'è il rischio che tanti lavoratori e tante lavoratrici rimangano senza lavoro senza reddito e lontani dalla pensione quindi chiediamo che venga rivista tutta la normativa sugli ammortizzatori sociali se dovesse indicare la prima cosa da fare al governo regionale qual è? è lo slogan della manifestazione lavoro e sviluppo lavoro di qualità e sviluppo di qualità restiamo a parlare di lavoro e restiamo anche in zona sangrina e frentana perché sono ancora distanti le parti cioè sindacati ed azienda chiamati a trattare sugli incentivi da destinare ai lavoratori della Honeywell che perderanno il loro posto di lavoro perché l'azienda ha deciso di chiudere lo stabilimento della Val di Sangro la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro al termine del quale i sindacati decideranno se riprendere azioni di lotte e dunque riprendere lo sciopero sentiamo insieme il servizio noi abbiamo detto da subito quando abbiamo sospeso lo sciopero con il presidio dinanzi i cancelli che per noi l'avvertenza non era assolutamente finita si annuncia lunga e complessa la trattativa per gli incentivi da destinare ai lavoratori della Honeywell di Atessa che a breve perderanno il proprio posto di lavoro a seguito dell'annuncio da parte della multinazionale americana che vuole chiudere entro il 2018 l'impianto in Val di Sangro in cui si producono turbo compressori per il settore automotive dopo l'incontro avvenuto ieri le parti restano ancora distanti sulla cifra dell'incentivo i sindacati sono fermi a quota 80.000 euro l'importo del bonus dato ai dipendenti nel corso dell'ultimo piano sociale l'azienda invece vuole trattare da una cifra nettamente inferiore i rappresentanti dei lavoratori in particolare la FIOMCGL non sono disposti a scendere sotto la soglia indicata il 23 ci sarà comunque un nuovo incontro Davide Labrozzi segretario FIOMCGL nel prossimo incontro che si terrà la prossima settimana se l'azienda non dovesse avanzare una proposta e quindi se non dovesse fare un'apertura rispetto a quella che poi è una richiesta legittima la nostra richiesta è assolutamente legittima perché qui non parliamo di un semplice piano sociale ma della chiusura dello stabilimento dicevo se l'azienda non dovesse rimuovere questa barriera oltre la quale non va e noi sicuramente riprenderemo l'iniziativa di lotta Adesso apriamo la pagina dello sport iniziamo dal Pescara e dunque dalla Serie B amichevole ieri per quanto riguarda il Pescara che ha battuto il Lugano per 3 ad 1 protagonista della partita è stato Mancuso autore di una doppietta e uno dei due Biancazzurri l'altro Fiorillo rimasto in campo per tutti i 90 minuti in gol anche Baez l'ex Chieti Sabatini per il Lugano nel frattempo il direttore sportivo Luca Leone ha fatto il punto della situazione rispetto al mercato la trattativa per Embalo non si sblocca e Falco può essere una alternativa valida nessuna richiesta per Fornasier uno tra Cocco e Cappelluzzo resterà sicuramente alla corte di Zemane sarà il cambio per Pettinari il quale anche egli rimarrà in Biancazzurro almeno fino a fine stagione andiamo prima a vedere l'amichevole del Pescara con Andrea Costantini e poi con Paolo Renzetti l'intervista al DS Luca Leone il Pescara fa le prove generali in vista della partita della prima di ritorno di sabato prossimo contro il Foggia all'Adriatico Cornacchia contro il Lugano battuto per 3 a 1 Zeman schiera dal primo minuto una squadra che somiglia a quella che sarà in campo allo Zaccheria con Fiorillo tra i pali Zampano Coda per Rotta e Mazzotta in difesa Mediana con Valsania Proietti e Brugman davanti Baez e Mancuso ai lati di Pettinari tra gli svizzeri del patrono Renzetti fa ripuntati su Davide Mariani in campo nei primi 45 minuti è oggetto del desiderio del patrono Sebastiano Pescara vicino al gol subito con Pettinari al quarto d'ora Fiorillo rimedia un suo errore e blocca sulla linea di porta e al diciannovesimo il Pescara trova il vantaggio l'esto Jaime Baez ad approfittare di una respinta della difesa elvetica dopo un'azione ben costruita da Proietti e Mancuso nella ripresa il Lugano cambia tutti gli effettivi Zeman ne sostituisce 9 su 11 c'è l'esordio di Gravion ma a diventare protagonista è uno dei due supersiti del primo tempo Mancuso che con un bel diagonale batte da costa al settimo della ripresa il Lugano di mezza le distanze al 27esimo grazie all'assoro dell'ex chieti Jonathan Sabatini ma a chiudere la contesa ci pensa ancora Mancuso che sfrutta alla perfezione un delizioso invito di Del Sole un buon galoppo per i Biancazzurri ma da sabato si torna a fare sul serio Enbalo o Falco vedremo 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 quello che succederà sono due giocatori che interessano tutti e due lo stato della trattativa per Enbalo sempre la situazione non è cambiata no stiamo prendendo tempo e vedremo quello che succederà sicuramente noi ci guardiamo anche intorno cioè siete disposti ad aspettare fino a quando? fino a che ci sarà il tempo noi non abbiamo un tempo preciso il mercato finisce il 31 gennaio noi volevamo fare questa operazione il prima possibile per dare opportunità al ragazzo di inserirsi prima nella squadra però poi siccome le cose non dipendono solo da noi ma anche dagli altri per il momento va così quindi la prima scelta rimane Enbalo seconda battuta Falco no erano due giocatori che erano sullo stesso piano come sembrava che Falco avesse anche altre richieste Enbalo era una situazione che avevamo portato avanti dall'inizio diciamo che sono due giocatori con le caratteristiche simili quindi vedremo chi la spunterà quanto riguarda le cessioni Del Sole tornerà probabilmente la Juventus e poi Cocco andrà alla Salernitana o comunque andrà via da Pescara questo non lo so al momento sono dei giocatori del Pescara e devono pensare alla partita di sabato finché saranno qui a Pescara poi se del Sole c'è questa possibilità ma al momento non è ancora concreto Fornasier Fornasier non c'è nulla se dovesse andare via Cocco arriverà un altro attaccante centrale una punta no c'è Cappelluzzo quindi assolutamente no numericamente dovevamo diciamo smaltire qualche qualche giocatore che era in più e siccome sono tre il mister ne vuole due andrà via uno l'altro rimane oggi abbiamo visto Mariani del Lugano in campo nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del Pescara c'è ancora oppure no o c'è mai stato questo interesse per Mariani è un giocatore che piace al mister però noi in questo momento siamo sei a centro campo e penso che siamo al completo Pettinari finora ha fatto 12 gol è normale che ci sia attenzione su di lui però il ragazzo vuole rimanere a Pescara cosa vi ha detto Zeman per quanto riguarda le operazioni che avete fatto fino ad oggi soprattutto per le cessioni visto che lui aveva chiesto di sfoltire questo organico giocatori che sono andati via ovviamente sono andati via con il placet del tecnico contento proseguiamo con la pagina di sport adesso il Teramo è ufficiale l'addio dell'attaccante Ciro Foggia che si trasferisce alla Sicula Leon vedete proprio la nuova maglia del giocatore indossata per l'occasione per sostituirlo a giorni la società bianco-rossa dovrebbe chiudere con il Carpi per l'arrivo di Cristian Carletti ma con ogni probabilità servirà attendere ancora un po' intanto sabato pomeriggio il diavolo sarà impegnato con il Vicenza allo stadio Bonolis per la seconda giornata di ritorno delle girone B di Serie C fuori quasi certamente Ventola sostituito sulla corsia di destra da Altobelli a centrocampo recuperato Amadio con Ilari e De Grazia davanti scelte obbligate con Bacio Terracino e Tulli alle spalle di Barbuti ed è proprio Carlo Ilari a presentare il ritorno in campo dei Biancorossi dopo un mese di pausa ricaricare le pile fa sempre bene soprattutto dal punto di vista mentale io penso che sono arrivato a dicembre un po' scarico sì ma ne sono consapevoli ovviamente c'è stato un calo di rendimento che è giusto valutare insomma nei limiti della insomma fa parte del calcio però si riparte ancora ancora più forte con più voglia di fare bene sicuramente avendo ricaricato le pile mentalmente e fisicamente poi se dovrebbe esserci essere questo cambio in modulo comunque se il mister vuole adottare altri metodi penso che questo mi può favorire la lontananza dal campo insomma si fa sentire dopo varie giornate senza giocare noi poi ulteriormente con riposo ne abbiamo una in più e dobbiamo cercare di arrivare pronti sia mentalmente che fisicamente abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico in questo mini ritiro che abbiamo fatto nelle scorse settimane adesso è arrivato il momento di insomma sveltire un po' le gambe e lavorare su su distanze più brevi lo stiamo facendo e dobbiamo appunto farci trovare pronti soprattutto mentalmente perché come dicevi è una situazione molto difficile prefissarsi degli obiettivi poi così guardando in avanti e in alto non sia non sia producente ma piuttosto controproducente io penso che dobbiamo restare umili e cercare di arrivare alla salvezza nel minor tempo possibile perché solo così possiamo giocare più liberi mentalmente e sperare di avere una possibilità una chance di arrivare playoff tutte le volte che ci siamo avvicinati siamo tornati poi nei bassi fondi quindi cerchiamo di toglierci il più presto da questa zona che poi tra l'altro si è avvicinata avendo riposato e quindi rimaniamo su quella lunghezza d'onda poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato e il mister sta provando il 4-3 e penso che sicuramente dal punto di vista offensivo proponiamo qualcosa in più dal punto di vista delle mie caratteristiche sicuramente mi rende la cosa più semplice perché comunque sono un giocatore con caratteristiche offensive e quindi avere più giocatori davanti da servire o comunque da sfruttare per inserirmi sicuramente mi avvantaggia però è chiaro che le scelte le fa il mister e se insomma ci dovessero essere una conferma del vecchio modulo o comunque altri moduli che possiamo comunque adottare bisogna sapersi adattare e fare delle proprie caratteristiche cercare di metterle in campo a favore della squadra prima di chiudere una comunicazione di servizio l'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni alla Camera dei Deputati al Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018 a tal fine informa che nella propria sede di Silvi in strada statale Nord 26 numero telefonico 085 930020 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente il costo della trasmissione dei messaggi la collocazione nel palinsesto e gli standard tecnici richiesti oltre al termine di consegna per il materiale eventualmente autoprodotto la persona da contattare per ogni informazione è Quintino Pallante è tutto per questa edizione del TG6 io vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo l'appuntamento delle 17 un nuovo aggiornamento sulla cerimonia per quanto riguarda l'anniversario della tragedia di Rigopiano e poi il TG alle ore 19 anche lì ci sarà una diretta da penne grazie ancora e buona giornata grazie a tutti